mary anziché poliziale sei assitata che ha fumi perché si stanca mary che fu ti vedo tipo oggi un pochino ti sta pensando mary quindi fumi per dimenticare ma quindi non sta poliziano oggi venissi pistola settata ma ci sto sto poliziano ma ci sto conto che sta a fumare non ci diciamo niente saluta va mary saluta vabbè fumi da sigaretta